Non potessi andare in live, strano, non ho capito che è successo, comunque, Isaac, Isaac, caro, Isaac, ah ma è da qui che si fa? Non serve chiederlo ogni volta, forse, perché per l'altro, vabbè, non sta venendo a posto, forse si può aggiornare da qui, non sapevo niente io, ora lo so, sarà molto più comodo mesi di chiudere tutte le volte la live, no, niente più rani, challenge, che non sia speed, tutto il resto, ma speed ve lo tengo per quando sono molto più rilassato, molto più sveglio, di adesso, e va hard, allora, essa challenge, non, niente troppo a cuori, e, comunque ho il vampiro, che ho, chi sia, scherzavo, cosa, full health, prima pillola, ma dai, vabbè, vabbè, non si può sottolineare cuori normalmente, non posso trovare più health, ma normalmente solo con il, con il chiesia di passiva, tipo, cazzo, un health, va bene, non solo riguarda il cuore, tra l'altro, non è anche troppo difficile, voglio di poi, subisci anche di line, e ho il chiesia al pronto, che, che poca roba, ecco, ora, adesso, ti faccio niente, perché ero già full, però, full health, un po' stato ben tritto, sarebbe stato, un po' stronzo, ma sarebbe stato, ok, ma così, full health a caso, va bene, non è quello tipo orribile, che, non mi ho, non mi usare mai, questa, la scoppio, ma, ah, sono inquieto, se lo provare, quindi, ok, dai, health down, beh, oddio, più o meno è quello, e, tra l'altro, i cuori, non erano cuori, ma erano diventati, vabbè, ho fatto sia full health, che matemesis, non lo so, è tutto così strano, ah, 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 è tutto un shot, che è un gioco, ma, ma, questi danni facciamo, sto, invece, è un danno stesso, è un stato, che l'ha, che è stato, ma, Ma non fa il tempo Hello Siamo adesso della vita Hello Uno di vita soltanto Ma comunque uno Il suo lato ho visto che si torna comunque Quindi posso fare i patti angelici tranquillamente La stanza Ma magari anche no Ho fatto fuori Ho fatto fuori Neanche di questo Tu No Daddy Longlegs Vai carino Daddy Longlegs Potrebbe essere Sì da qua No Eh non ci voglio vedere Credo che Le due monete In realtà a questo punto Sono tutti i cuori Sì da qua Il suo lato Non è tutto Ma è rotto pure health Ma è normale questo Che si infaccia E qua abbiamo Belle le due monete a cinque monete Grazie Dammi questo per favore Non fa le spawnare Piuttosto Ho capito Il matemesis Che li fa ruonare apposta Ma non nel negozio Che stessa è stato Vedere quella cosa lì E' stato apposta Sento fare anche Il matemesis Dopo pure health Però poi è una altra cosa Ma abbiamo Tutto Allora Giuro Tanti Morti Morti Vuoi sviluppare danni Quanto è che Non sta Voglio Voglio Assunta Nese Ok 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 Mi ha detto Mi ha capito Mi ha capito Perché no Oddio Sotto che c'è L'HP qua dietro Che esco E prendo l'HP proprio Non prendo Il Marrow Prendo questo Mi ha dato l'HP 1 Oh Grazie Mi fa proprio Alla gara Al Piede Ti vedi l'ho Ma Non si rompendo Non si rompendo Ma Non si rompendo La loro esplosione Bastardo io Oddio La bilasso Questo è Lo giusto passivo Con cui parte Sansone Più subito Da in un piano Se volendo Più subito Da in un piano Più Mi fa to tagli Che sta sfida Che sta sfida Non rimane Oh no Anche Homing shots Dai Entratemi L'oggetto Per fare Anche Chi notte Sono a posto Lai Ehm Perfetto Ottimo Però se Ho incontrato Sempre l'oggetto A punto Quindi A posto Aioa Wizard Io sono Ma in seguimento Posso proseguire Anche così Questo Concento Buono Di Aioa Di Aioa Che spara Una lacrima Sola Alla volta In una direzione Non come Il cappello Asino Spara In entrambe Le direzioni Tutte le volte Di cosa Ne si double shot Ma Con la No Wizard Come effetto Ma Sto Prendendo Quello Davanti Poi L'uomo 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 Miracolo Davanti Bravo Nel negozio Avremo Invece Magari Un attivo No in realtà Questo mi sta bene Avendo un light Però Un attivo Decidente Però c'è Nightlight Nightlight E' come se Annullate La Gust of Darkness Percibete tantissimo In ogni caso Forse Annulla proprio La Gust of Darkness E fa tutto il resto No in ogni caso No in ogni caso No in ogni caso No in ogni caso su, su giù nella riscarica pur sono per blind no, è vero, è il progettore perfetto il mattempo dice ora come ora ma anche in minuti di no ok il pericolo non ti fa amare ok 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 avessi cazzato voi la testa prossimo inutile ora vai in puo' sul fuoco è molto buono in alto non mi sputa quel fuoco quello è matemati se no non voglio matemati buono io lisse buono io lisse bello grazie per le due chiavi non la faccio scoppiare da quella parte non la faccio scoppiare neanche da quella parte cazzi cazzi addio 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 cazzi no 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 basta che matemati basta 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 ci senti l'onglet non mi fa abbastanza male non mi ha fullato pajamas dai mi fulla full health e non mi fulla pajamas che stronzi questo è la merda di oggetto in realtà però guarda just for the lols giù di qua della dischi di cancua full health full health full health eh Ho trovato PILX. E' un Temerish ma lo tengo. E' solo un full end, sono molto gratis. Guardate, è proprio easy, anzi non gratis. Non voleva uscire. Questo lo uso, ma non mi serve. E' un led. E' da voi. E' da voi. Fosto di tutto. Vabbè, festa le merde, festa le merde. Eh, ma... Sarebbe questo problema se non volavo, ma volavo, quindi. Aspetto. Stanza brutta. Quelli... Non so se erano tutti i cuori della vita, tutte le monete. Questi erano molto due da ammazzare da neall'ottanta. Ma già? Questo è quello. Il cuoio, il cuoio, il cuoio. Un po' caso, ma tutto il cuoio. Ambient Battle! Tutto doppio. Questa è l'uso di questo affare. Nessuno. Quanto male. Pia, pia, pia... Pia, pia. TEC5. TEC5. Buona perche' Quando c'è un lievex ice l'arice di mento. La fantezza di tesoro non l'ho ancora trovata, c'è un altro esserato. scoppia allora lo trova da un sadico visto che non mi piacciono le cose facili io vado a vendermi del danno aumentano gli nemici champion mai danno danno il piede lungo con un laser e l'anima a posto Non lo prendo quello perché ho l'attività, però il trink è tutilissimo così Suvaluare il Penny No, non me ne faccio di niente da suvaluare il Penny E... Cio Se era tipo cancer forse preferito, per esempio Ma... Suvaluare il Penny Questa invece è una bella stanzetta Forse erano tutti cuori quelli Ma è meglio così No, questo è il tema Quello doveva essere un cuore, sopporto, immagino Di cinque monete in cinque monete, non so perché stiano uscendo tutte queste figlie Un'altra parte del laser che mi fa... Un bar Ma è meglio la cosa in cibo Un bar più o meno sono quello grazie lo stavo capendo altre bombe altre bombe ho più chiavi che bombe non si è speccata queste bombe che le prendo è un nuovo chip o l'invegia? non posso prendere questa si perchè è una è un po' non mi ha fatto un gioco non mi ha fatto eh... devo andare a un punto di vista dove c'è? ah no, non mi ha fatto un gioco ah... non mi ha fatto un gioco ma ne valesse la pena di un item non lo faccio adesso anzi lo faccio adesso si no non funziona davastanza all'altra se funziona davastanza all'altra ci piace un pensiero a fare così no rischio perfetto è la prima volta in assoluto da quanto gioco adesso che trovo in utilità quell'oggetto utero xl perfetto full vita quasi qui Mega lads! HAHAHAHAHAHA! Ok! What makes you larger? Oh, thank you Dio! Scusate, l'avevo visto! Pertro! Ma... Tanto non mi serve comunque l'intera galassia! Della G-Shan! Ce l'ho già, grazie! Mi lobe! A posto! Una chia- Due chiavi, tra l'altro! Si! Finche, finche! E' un ragazzo più intuito! Full Vita! Non più full Vita! E non ne bastano neanche la pena! Un ragazzo! Un ragazzo! Un ragazzo! Un ragazzo... Strength! No...? MEH! Vai! Sempre attività, questa è sempre attività Iiiiiiiiica Molto forti Anche voi Questa stava sbriando tutto verso del piano praticamente No Quante batterie Batterie, 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 batterie Che batterie, batterie, batterie Non credo per un altro personaggio, per un altro oggetto Ma che batterie Ma che batterie Ma che batterie 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 Mamma mia Che batterie 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 I roll Lo scudo Il coltello Che batterie 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 Non so Se ci sono stanze del tesoro Sono di grandi pezzi di merda Guarda Lo colgo dalla pool Ma che vengono comunque il buono Anche a questo punto si può succedere E basta Sono abbastanza morti per entrare nel negozio Sono sfigato come sempre Le Ok Ho visto che sono quelli grigio o quelli che esplodono? Sono quelli grigio che vuoi, ok? Ok, ho visto che ho paura di perdere satana perché non ho le lacrime al tuo giro No No 1 makes you larger ancora uno divento stompi che questa è una cazzata lo stompi non è lo stompi che intendi tu cioè quello che spacchi le roce camminando ci sopra lo stompi che quando subiti i danni emetti un terremoto ma perchè non chiamarlo lo stompi chiamalo giant to gigantismo vabbè sia un altro nome visto che Isaac è pieno di cose belle no non funzionare Non è grum! Non è grum! Non è grum! Senti Sissons! Potendo dare le tavole bombi! Basta! Non esploro a volte questo piano! Bisogna un po' di speed perché al momento sono lentino! Però per il resto va tutto alla grind! Danno ne ho! Anche se ho il danno base ma il coltello aumenta il danno! Con la ladera posso fare questo! Così posso farlo! Ma non così! Non dimenticare! Non dimenticare! Potremmo che posso mettere una alla volta! Sì! 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 Tengo alghi! Ah! I due spazi! No! Dai però! Non lo scoppio di vedere cosa c'è! Ve l'ho fatto! No! Non lo scoppio! Questa! Per non so che motivo Qua Ancora la torcia? Ma a me sta benissimo Anche perché ultimamente A questa torcia segnala in corsa Ma mi sono un po' d'oidiota Ma Veramente tanto eh Vabbè prendo tutto in questo modo Lento va Prendo tutto Bravo Bravo Tutto bravo Tutto bravo È lento come metodo Ma funzionale Ok 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 Perfetto, ma buono perfetto a poste o 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 Anzi che posso andare dalla parte opposta Ah già Quindi questo è come un pezzo di me la dalle volte Fa perdere E scusami di farti perdere Perché qua non ce l'hanno E là sotto Nemmeno nella stanza di bianco la stanza con la spada Qua un punto per attirarlo valeva l'altro Ok perso me lo tengo Perché adesso bombardo un secondo Il generator Ma me ne sbatto veramente tantissimo Ho pezzi di gappi giusto No Allora Two of hearts Pip Per essere Parlo in culo quanto ti pare Ma appunto nel coltello non hai speranza Più danno E si va E si va Le mie ginocchia devono stare in posizione dritta Non mi fai questi scherzi Ah E se anche poi Non si può fare sul serio Ok Ah 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 Gimpi Ah Ecco dov'è Quella resta dov'è Questa è Ah 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 Gimpi Dove vado in un laboraccio Adesso in un gran lavoro Adesso Buono Dove vado a farlo tu adesso No Ok Ok Ah 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 tantissimo non ne va la pena di sta stanza bello lo scudo no dai come mi avresti beccato stronzo Isaac ma cosa c'hai oggi che ti blocchi di continuo frizza non lo so che punto se vuole muoire e vuole muoire normale tutte le pillole più o meno sono troppo a usarle anche bettide volendo lo scuose ma addicted non c'è modo non c'è luogo recente di più usarlo bettide ti vuoi fare un danno e a volte ci sono momenti in cui ti vuoi fare un danno anche solo uno ma ti basta di cercare quello metti i porcini non so dove andranno a finire tutti i tuoi perché tu è un po' di gioco d'azzardo c'è c'è la black room la black room chiuderò un po' l'ha detto black room ma va bene allora viene con me lui che preferisco adesso più comodo bravo ok è una combinazione bellissima questa gimpi gimpi ah non viene gimpi e bloody 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 sono anche un po' lì sono anche un po' lì da perché la black room dove c'era un un petro e adesso mi serve per cazzo sono addicted vabbè vediamo spero che il primo ti tocca se è esicente ma se me non mi 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 devo ricordarmi che devo sparare laterale dove voglio colpire per cazzo Isaac prego mi mi ami No, la moneta lì è un po' male Vado ancora nel negozio A prendere la blue map Ah, mi stavo scaricando roba di un... Mi stavo scaricando aggiornamento di Windows Eh, bastardo Windows di merda a volte Togli di meno da avanti questo schifo Magician Sì, anche perché ho fatto un errore Probabilmente a prendere il Wids Però Va bene Perché ti interessa una cosa Io sto pure in questo momento spuntando sotto di me Ma nel momento in cui sparo si divide il colpo Ed è terribile perché ti confonde E qua ho Magistate Magistate Con questo attivo Magistate Diventa Particolarmente inutile Quindi non la prendo Vado a bombardare il negozio A vedere cosa mi esce La Detsky Si la va Ma a me piace come item Anche tanto mi piace Ma a me piace come Ma a me piace come mercano perché non mi interessa prendere patti angelici tanto la chiave ce l'ho necropolis xl e curse of the labyrinth cazzo curse ah no è vero curse of the labyrinth aiuto ok ecco qua la galaxy sarebbe un bellissimo investimento e dai e questo dimostra un po' come ora prendere wiz a va bene così ok oh gulp ottimo gulp io sono per sempre una letto al bomb tanta ma tanta ma tanta sostanza ci posso guardare da senza ok tu morirai 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 challenge up guarda apprezzo che cosa mi piace mi piace mi piace mi piace la combinazione tra l'altro safety sissor più tarot flop subito porca puttana la stanza orribile che era voglio volare perché con lo spin non lo posso prendere comunque e non vado a sparcare monete chiave monete ok la black powder non la userò mai dobbiamo subire lontano la galaxy perfetto è lontana ma la usare mi serve speed un po' di velocità qualcosa lontano 1.50 sei felice non c'è una big up va bene così io lo do tutto giù di qua non è che ne vai molto la piazza invece si che ne vai da qui la cazzo non c'è un po' di più 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 adesso selson lock questo è buono Sono full Monete e full cuori Mi serve assolutamente un negozio 4 4 4 5 5 5 6 7 8 è una mosca ah, cazzo, cazzo che è giusto di prendere a Widz va bene, usiamolo una volta cercando due volte yeah yeah me lo tengo, vado al negozio io vado drittissimo al negozio che ora so dov'è no, non devo fare questa ecco ah, non posso abitare la vostra stanza va bene, però ah, sapevo che c'era lui è a telegrafatissimo che c'era lui e niente si va ad ammazzare come Blowhard che te si dà muori e basta ah, devo per forza andare a Sheol quindi Cioè dovrebbe forza fare satana E poi mega satana Come desideri Dunque Tu scoppi Dai dammi qualcosa Bello qualcosa di bello Su 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 Anche direi metti mi sta bene in realtà The moon va bene Così vado dritto da quella parte lì The moon Sul vita o sul full vita? E va bene Addicted Va bene Ok Ora Va bene Va bene Porti Mi Quanta bella roba. Guarda che Penny. E' su. E' così felice con il mio scudo e coltello dritto davanti a me. E' così felice con il mio scudo e coltello dritto davanti a me. E' così felice con il mio scudo e coltello davanti a me. E' così felice. Ma la Gulli. Ok. E' così felice. 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 Il mondo. E' così felice. 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 felice. E' così felice. E' così felice. felice. E' così felice. E' così felice. E' così felice. a dying paesi. E' così felice. Addio. Addio Agalazza Addio Addio Dai Basta Basta danno V1 A me è totalmente di merda Che mi sta bene il D1 Non so nulla Ho il coltello, ho la chiave Ho un Ace of Clubs Ace of Clubs Il tank te l'ho comunque ingogliato Non so che oggetti ho Ho accorguto io Basta Non mi servono poi Un po' 1,90 di speed Che ottimo A posto Ma non ci vado da Delirium Togliselo dalla testa Voglio andare a fare mia cassata A definire sta challenge Non voglio fare Delirium Mannaggia Retro visione full health sta già ci dentro gli occhi togliamolo subito atame ok su 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 su